Musica Seconda sessione, secondo appuntamento qua a Capodarco di Fermo alla Pizza.it School abbiamo affrontato questa volta sempre un master per pizza in teglia ad alta idratazione minimo 80% di acqua su un chilo di farina questa volta abbiamo trattato degli impasti indiretti con bica i risultati sono stati molto soddisfacenti e i ragazzi hanno risposto bene tutti promossi è stata un'esperienza fantastica poter vedere la tecnica di Massimo Bosco speriamo di poter ripetere di nuovo l'esperienza con lui Ciao a tutti, mi sono trovato bene anch'io al corso con Massimo Bosco è stato molto interessante e volevo consigliarlo a tutti anche chi non è del mestiere iscriviti al corso con Massimo Bosco iscriviti al corso con Massimo Bosco